salve ragazzi bentornati su giochi di giornata qui con il vostro art art non siamo nella mia cameretta siamo in macchina perché oggi vi porto a conoscere un'altra mia passione che è la musica vi porto con me alle prove del mio gruppo a differenza di tanti youtuber non vi farò vedere mentre guido perché ragazzi ricordatevi quando guidate non guardate il cellulare non fate video non pensate ad altro che alla strada perché è importante e si rischia la vita ci becchiamo alle prove per magia siamo arrivati ragazzi tra poco si entra le prove ed eccoci qua pronti per le prove cazzo abbiamo montato tutto quanto quasi dobbiamo ancora montare la batteria nonostante acceso il condizionatore fa un caldo della madonna non ce la posso fare non ce la posso fare e che dire è una saletta ci sta tutto non ci farei video bravo ragazzi oggi c'è uno special guest con noi il mirco dei biai facciamo un po' un check con le voci vi diamo un po' 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 un Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.